Sì, ma ma che fai a voi sentire? Dimmi tu pensavi se questo è il bisello... Bianca Neve? Bianca Neve? Sì, no, Bianca Neve. Bianca Neve ho fatto me, Sì, perché Bianca Neve mi maravigliò, se vanno a me. Allora, ma ti raccomando, Bianca Neve? Bianca Neve era una femmina di... in questo caso di guattire spagnolo. Stemme di guattire spagnolo, questa era una femmina molto sciolta, molto spinta, molto... era una prensola, Sì, era proprio una prensola. E chi lo vedete l'auto in settembre e si chiamano i travagatori a casa per fatica, erano sette in loro, capis? Sì, sì, tenevano la ditta, erano sette in loro, i chiamavano i sette nanni, i sette nanni, e si vanno a fatica la casa, so che c'è una ristrutturata casa, e niente, mentre questi che ristrutturano, Bianca Neve, ovviamente, faccio in più, se vieni la casa, spannevi i panni, andando a fare un baccone, a parlare con quel lato, con quel lato, con quel lato, quando, bella e buona, l'improvviso, passo un fruttoio e la passo con tre ruote, sanno fai caccioffe, caccioffele, i pottoni, i pognoni, e poi parevi una volta, tutto cioè un fruttoio, no, c'è un fruttoiole che è vendato, no, ti tiro in qualche vai, stò con i trenti, in qualche zi, sentite i trenti in mela, i mela, volevi in mela, mi arrivi per andare a riuscire, a riuscire a riuscire, perché ci è sempre piaciuta a avvela di riuscire, a riuscire a riuscire a riuscire, a ritrati, io non mi chiedo e a 2 kg di mela, mi dicevo quando avrei 50 ugl? c'era il numero di 100 ugl? la biancarea, la biancarea,!! mi aiuta da tutto! mamma mia, la biancarea c'era il numero di 150 ugl? la biancarea non andava in poche ore comunque, le bancarea le mande le faesi manare la biancarea si diceva che era una biancarea la biancarea sono state l'indice e i diritti come si disse che era un po' domande perché si veniva riuscito, non c'era un po' domande cosa dice? e quello che dice? Poi c'è un po' domande sarà una cosa davvero grande più questa volta come la faccia poi come la faccia di Facebook non si trova pure di Facebook è una parte di un po' domande ma per loro non dote per loro, non ho la tua sembra ma non si trova e adesso si trovano un frappato di chi lì si trovano a bussare tutti i piangati e gli dicevi il signor su cui si trovano la bottiglia l'acqua bella e buona perchè non deve scegliere tutta la motta la fretta e c'è preso no? e la bichetta era pistola si cagava sotto si cagava sotto i reti si facesse la dama per poi si facesse sfermanare capi? e quindi a che faccia? se c'è preso e chiamati la brondolona anche a su a prendere la pistolona e chiamato e chiamato togli un'ospitale e togli un'ospitale e si cagava e si accompagna all'ospitale come è che c'è? tenevo una pazzina elettrica e dopo poi accambigna l'ospitale usandolo bene usandolo bene usandolo bene usandolo bene accambigliare soltano l'ospitale perchè non si sa per me è stimolare ma non sa e tutti i fravagati tutti i setti come se pensi che io ero cioppa di seriglia fatica la maniera ma mi sape cosa e non ci hanno niente proprio E mi dice di togliere E uno non mi ha vinto E io non mi ha vinto Io mi rimane con me La fatica del papà E io non mi ha vinto Come lo so, come lo so Che pensavo ho detto Che dovrebbe essere a prima E allora Se avvicinano Che è sempre a cagò E gli dice sempre a cagò E gli dice che cagò non è mai che vieni a portare un pochino stiamo usando un buon lavoro e non è sempre stato un pochino e ho detto al lavoro il principe si è presentato là e ho detto che è successo ma che è successo, perché è stato un po' spitalo facendo capire cosa e ho detto che non ci sono e ho detto che è un pochino non è capito e ho detto che è spiegato però questa situazione e mi è successo e mi sa che è stata capace non è capace che è stato capace il frutto di cuore si è mangiato il caro non è si è venuto, si è mangiato il mio è si è venuto ma, ma... il principe non è tanto cosa si è perché il tuo principe che si è mangiato il mio è si è venuto allora si sa che sa e che ci hai detto il principe? si è la banana si è la banana, era la tua origine la banana si è mettendo un pochino e non si è pagato la franta zucca è un pochino e non ci so risponde si è una cosa che si è ormò e non ci andrà e non ci andrà il trucco il trucco Grazie.